Allora Pimpost, stiamo pensando di fare una nuova serie di video vuoi fare dei video ironici raccontami un po' cosa hai detto? Cioè l'idea è quella di, sulla falsa riga di quello che fa Buffa racconta quando parla dello sport e queste cose qua di fare dei video dove chiamiamo Pimpost racconta e parliamo dei falsi miti del software, no? Tutte quelle cose che si dicono in giro ma che fondamentalmente non hanno più un fuoco del genere Sì ma vuoi farlo in chiave ironica, come sempre Assolutamente in chiave ironica E vuoi chiamarlo Pimpost racconta ma poi sembra che Pimpost è un coglione E no Perché ricordati che Dio è grande ma Pimpost non è un coglione Ciao